Se per il politico comunicare può essere un problema, si immagini che cosa significa quando questo politico si occupa di sanità e di sociale, come per l'assessore Valdegamberi? La comunicazione è importante, fare i vari messaggi, soprattutto positivi, tra i cittadini nell'ambito sociale è qualcosa di fondamentale. Oggigiorno noi usiamo spesso mezzi ormai obsoleti, superati, ci accorgiamo che la nostra azione anche amministrativa non raggiunge i risultati che vogliamo in termini di conoscenza da parte dei cittadini, ma soprattutto di conoscenza quali sono i loro diritti, le possibilità di risolvere i problemi, le opportunità che sono loro presentate. Ecco quindi che la comunicazione televisiva diventa attraverso anche esperienze come quelle che abbiamo già realizzato nella produzione televisiva di un film che tratti tematiche importanti come quella dell'alcolismo, come quella della donazione degli organi, è uno strumento importante, uno strumento efficace perché sa raggiungere risultati, entra in tutte le famiglie, crea cultura, crea formazione, molto più che altri strumenti tradizionali. Anche il nostro rotocalco televisivo vuole essere uno strumento servizio della congrua comunicazione alla maggior parte della gente. Certamente, nell'azione amministrativa di ogni giorno mi accorgo che molto spesso non solo i cittadini, ma anche in qualche caso anche gli operatori non sanno, non recepiscono bene, non sanno interpretare bene quali sono le linee di azioni amministrative della regione Veneto e quindi c'è la necessità di fare chiarezza, di dare servizi in termini di chiarezza, perché anche fare informazione significa dare un servizio ai cittadini, significa mettere in condizione i cittadini di poter fruire e godere dei loro diritti, di rendere accessibili anche le informazioni utili per la loro vita quotidiana.